In primi passi da giocatore l'ho mossi a dieci anni alla GRS. Prima facevo nuoto perché voleva Quartito come mediano davanti alla difesa. Poi a Narni era la GRS. Poi a Narni mi hanno spostato a trequartista e dalla Dyrus in poi attaccante. Come punta Venturi dell'Olympia Dyrus. Come prima punta Marco Andinucci. Qui tu hai giocato anche in promozione? Sì, in promozione metà anno. Dicono che c'è un grosso salto qualitativo tra la prima categoria e la promozione, insomma dalle categorie a promozione eccellenza. Sì, diciamo la promozione è molto più diciamo professionale. Anche perché ci si allena anche di 4-5 guardie con le scuole. Sì, però anche in prima categoria sono giocatori veramente forti. Qua è normale quando all'inizio meno il livello è leggermente lì. Anche i ritmi sono di gioco bassi. Però la qualità anche in prima. Senti, ma da quando torniamo a un passo quando eri bambino mediano. Hai sempre stato un crack oppure hai faticato un pochino per diventare diciamo un giocatore di rispetto a livello, a quelli all'inizio da ragazzini? No, diciamo che avendo iniziato tardi magari all'inizio un po' faticato. Però prima di giocare a 11 anche tra amici giovo sempre a 5. Quindi anche diciamo la rapidità del pensiero, l'estro, l'ho maturato sui campi di calcio a 5. Dopo magari avevo una visione del gioco e ho tutti e due i piedi, destra e sinistra per poter fare delle aperture e cambiare gioco facilmente. E' un ruolo che a me mi permette anche a spesso di fare la fase di inserimento, che è una cosa che l'inserimento da dietro mi piace molto. Mi stanno ascendo già un ruolo con Federico Ricci che non ci aspettavamo. E' vero. Dopo naturalmente con gli anni cambiano anche le attitudini. Nel senso quando inizia a giocare molti anni attaccante anche certi movimenti cambiano, variano molto. Però praticamente diciamo sono trovato bene sia da mediano che da attaccante. Com'è che hai smesso? Beh ho smesso l'anno scorso. L'anno scorso ho giocato in seconda categoria con la Robur e ho smesso perché per modi di studio. Ho riuscito a conciliare lo studio col calcio e comunque sia anche qua questo torneo diciamo mi piace molto. E tu hai ricevuto credo la chiamata di Massimiliano? Sì, la chiamata di Raffaele, Pias, mio cugino. Ho riuscito la chiamata da Raffaele a andare a giocare con la Real Brotolini. E praticamente all'inizio ho dato la disponibilità solo per alcune partite. Dopo però diciamo era un torneo che mi ha convolto molto e quindi avevo piacere a venire in tutte le partite. Tant'è vero che nei primi 5-6 giornali se non ricordo mai il giorno tipo un paio di volte. Cioè ricordo sempre il precedente col Borus Nai che tu eri alla seconda partita e con il Borus Nai ci sono stati con molta pazienza no? Senti, qual è stato l'impatto con la Real Brotolini? Anche perché comunque è stata poi una stagione particolarmente in sordina, poi è andata in crescendo già in regola al season e poi è stata una grande serie B, no? Sì, sì, è vero. Beh, all'inizio eravamo partiti molto male perché ricordo il primo impatto, il torneo, un 16-3. Se non sbaglio con l'iride, i giocatori nella regular season veramente forti avevano. Poi piano piano abbiamo fatto la prima vittoria, credo proprio col Borus Nai, sul derby col Borus Nai la prima vittoria. E da lì abbiamo iniziato a prendere coraggio e quando eravamo tutti i titolari, tutte le disposizioni, eravamo veramente una bella squadra. Trago Massimiliano invece che rapporto ai... Beh, già lo conoscevo Massimiliano, già quando eravamo piccoli giocavamo nei campetti, tra virgolette, di periferia, cioè i campetti anche qua alle Grazie, no? Che tipo era? Senza barba? Sì, senza barba. Prima sì, però è stato, diciamo, sempre un giocatore da una tecnica veramente importante, anche tatticamente. È stato sempre un giocatore che con cui mi piace giocare. Anche perché quest'anno si è esplodendo. Sì, l'ho visto, sì. Anche quando abbiamo fatto la partita all'R10 ha fatto una tecnica, una visione del gioco quasi unici. Senti, quella stagione lì, la stagione scorsa, no? Inizialmente tu eri il fattore novità, no? Sì. Nessuno ti conosceva. Ah, hai fatto qualcosa come oltre 70 gol nella regola season, no? Giocando poi 9 partite, 10 partite, 11 su 14, o su 15 se non vaderò. Nella seconda parte, è vero, c'è la Serie B, quindi magari tagliavi da destra le squadre grandi, no? Si parlava del Ricci, adesso ci vuole la conferma perché ti conoscono. E tanto non t'hanno preso uguale le squadre. Beh, la seconda parte di stagione, quella diciamo in Serie B, è stata una stagione molto emozionante perché ci giocavamo la Serie B con le cantine aperte, che inizialmente nella regola season era tutta altra squadra. L'hanno rinforzata con giocatori di calcetto e prendevano pochissimi colli, mi ricordo. Tutte partite tirate, quelle delle cantine aperte, infatti anche la nostra sono state due partite tiratissime. E ci siamo giocati, l'ultima, credo la penultima su questo campo, pareggiavamo 4 a 4, credo. E a noi bastava il pareggio, diciamo il pareggio, ci faceva sperare per la vittoria del campionato, nella giornata successiva proprio con il Borusnai. E a 30 secondi dalla fine, è brutto dirlo però, l'arbitro si è inventato, ha invertito completamente la punizione che era a favore di Tommaso e ha anticipato gli istanti, credo. Invece ha dato fallo agli istanti, avevamo avuto 5 falli, avevamo fatto, e quindi al sesto tiro libero e Marchettini l'ha messa all'angolo. Come è il tuo rapporto con gli arbitri? Ma no, io il rapporto con gli arbitri ho cercato sempre di, diciamo, di avere un rapporto cordiale, perché come vengo io a giocare qui per divertirmi, loro lo fanno, diciamo, in maniera serena e in maniera tranquilla, quindi non deve esserci assolutamente nessun conflitto, secondo me, tra giocatori e arbitri, perché come sbaglio un gol a porta vuota che è successo, può sbagliare l'arbitro una decisione. Lì deve essere il rispetto, anche perché è un livello ammatoriale, non ci giochiamo niente e quindi è assolutamente il rispetto di essere alla base di tutto. Senti, poi la Summer Cup con l'Albertolini era, diciamo, tra le favorite comunque, perché hai fatto una girona, se non ricordo male, battendo acqua e sapone, quindi che fonna e cantina per te stesse, se non ricordo male. Quindi, come è andato quel girone che sembra che vi stessi lanciando anche per un successo totale, no? Fondamentalmente noi siamo usciti con tre vittorie e un pareggio, e quindi, sì, il quintetto titolare che avevamo messo su era veramente, ma non solo il quintetto, anche le riserve a quel punto erano veramente forti. Avevamo preso Checco Belli a porta e Marco Basili, difesa con Alessandro Maraga. E avevamo iniziato con la vittoria su Clinica Eiffel, una punta spettacolare, o da sette, era finita, credo. In kit? Sì, esatto. Con un caldo omicidiale, è una partita veramente una delle partite più belle che abbiamo mai giocato sul torneo. E poi, ai quarti di finale, con i Papa Boys, è stata una partita stranissima, perché eravamo sul 5-1, nel primo tempo. Dopo, se non sbaglio, ci si è fatto male Basili, Maraga, e ci hanno recuperato sul 5-5. Quella partita c'è una stretta marcatura nel secondo tempo di Benedetti, da Daniele Benedetti. Che giocatore ha il Benedetti? Benedetti è un giocatore che è sempre sul pezzo, cioè riesce a mantenere la concentrazione costante per tutta la partita. E' propositivo sia in fase offensiva, ma è molto bravo anche in fase difensiva, quindi è giocatore molto costo. Il rigore sbagliato ci ha tagliato a tutti le gambe, perché purtroppo è capitato a lui, però poteva capitare a me, poteva capitare a qualsiasi altro. Magari il rigore neanche doveva tirarlo lui, però, come si dice, il rigore lo sbaglia solo che ha il coraggio di tirarlo, e quindi, diciamo, è una lotteria. Tu avevi già l'idea ben chiara per la stagione successiva, non ti dico tanto, non so se accidenti, però tu avevi già l'idea che quella sarebbe stata la tua ultima partita a correre a Brotolini? No, diciamo no. Anche perché non sapevo della scissione della squadra, cosa che sono venuto a sapere successivamente. Però comunque sia, a me piaceva lasciare un bel ricordo sia dalla parte del futuro reale, sia dalla parte del futuro atletico. Quindi a scegliere una delle due compagni, diciamo, era difficile, anche dal punto di vista dell'Ecuario proprio. Per quanto riguarda invece il derby di Brotolini, c'era tantissima gente, credo che è stata la partita con più gente che ha visto nel termini, che speriamo di bissarla nelle finali, no? Quanto ti sarebbe piaciuto giocare in una partita di quel genere? Diciamo, mi sarebbe piaciuto, avrei avuto piacere a vederla, a giocarla, non lo so. Vedi, terribli giocatori terribi pure le domande. Sì, esatto. Senti, di Guerre al Brotolini, ti chiedo un commento fresco su alcuni giocatori. Vittorio Palestini. Vittorio Palestini, diciamo, è stato inventato come portiere e ha avuto un crescendo veramente importante rispetto all'inizio stagione. Ha riuscito partita dopo partita anche a colmare delle lagune che aveva. È veramente una persona, oltre che splendida, ha un carattere veramente, veramente importante. Riesce a guidare la squadra da dietro come pochi. Sergio Martellotti. Sergio Martellotti è veramente un personaggio, nel senso che era l'anima insieme a Massimiliano della squadra. E se sono scissi, c'è questo contrasto. Sì, esatto. Però era l'anima della squadra. Ragionava veramente in maniera professionale. Cioè, comunque sia, anche se in ambito amatoriale, lui ragionava in un'ottica professionale. Senti, invece, tuo cugino? Mio cugino, per me, se sta in forma, è uno dei giocatori più forti, diciamo, dal punto di vista del calcetto. Perché la visione di gioco che ha lui, con i passaggi in profondità, il dribbling stretto, l'ho visto veramente a poche persone. E mi ci trovavo veramente bene, perché tutte le volte che lui aveva palle, facevo determinati movimenti, e lui, anche senza vedermi, la metteva sullo spazio. A proposito quest'anno si parla molto adesso, quindi come tu sei stato sostituito, tra virgolette, nell'immagine collettiva, da Nicolò Bellanca, no? E quindi sono iniziato a partire, per colpa mia, ovviamente, i paragoni, no? Beh, è un giocatore veramente, veramente bravo, Nicolò. Ha, vede la porta come pochi. E inoltre, sia il destro che il sinistro, diciamo, non ha calcio indifferentemente con tutti e due i piedi. E, diciamo, anche lui è stato un crack sulla prima parte di stagione, in Serie B. Ha fatto veramente uno... sprascello di gol. E quali ha a fine anno, secondo te? Diciamo, se lui ha intenzione di mettersi alla prova, magari anche in Serie Superiore, come la Serie A, voglia che ha avuto, diciamo, anch'io. Andando all'accidente, è giusto che faccia le scelte che ritiene più opportune. Altrimenti, se ritiene opportuno di rimanere nella squadra dove conosce più persone, dove, come se sono tutti amici, è giusto che rimanga lì, perché alla fine è sempre un... diciamo, è sempre un torneo amatoriale. Tu quali stimoli hai avuto nell'accettare la richiesta dei Nardoni, credo che ti abbia contattato da lui, e quindi gli accidenti, cioè di una squadra che aveva vinto, la scorsa Serie A, quindi comunque arrivava, probabilmente, con la pancia piena, e poi forse questo si è avvisato, si è visto nella prima parte di stagione. Lo stimolo è quello di continuare a vincere. Purtroppo non è successo questo, nella prima parte di stagione, perché sono venuti a mancare Terzino, Monchini, Picchioni. Comunque sia, avevamo avuto poche partite Falocco e Teotori. che erano praticamente la spina dorsale. Però arriva l'appuntamento il 16 settembre della Supercoppa contro le cantine aperte. Ancora le cantine aperte per te, Sioni. È stata molto per le ripercussioni, soprattutto nella prima parte, di stagione dove nel giro di andata avevamo totalizzato solo 7 punti. E quindi sì, è stata una partita, diciamo, molto tirata. però di fronte a una squadra che, diciamo, di giocatori è completamente, diciamo, composta completamente da giocatori che lo praticano settimana dopo settimana e il calcetto non è successo se non fosse stato quel palo mio un secondo dalla fine su ingrociato, col tiro di sinistro e il calcetto era finito 5-5 i rigori dopo era un'altra storia. E comunque sia, diciamo, paradossalmente ho avuto anche un impatto positivo perché abbiamo tenuto testa comunque una squadra veramente forte. Però purtroppo nella prima parte ci sono mancati tantissimi giocatori e anche quella di arrivare alle finali play-off e a giocarcela con l'Acqua e Savoni in semifinale è stato, per noi è stata, la vittoria del campionato da come eravamo partiti. La partita, diciamo, al punto più basso sì, è stata la partita con i Papa Boys. Sì. Dopo, diciamo, anche nell'ambiente nostra c'era... diciamo, c'eravamo molto demoralizzati. Dopo però siamo riusciti ad inanellare 3-4 risultati utili consecutivi e quando vai in fiducia anche le persone fanno un sacrificio in più per venire a giocare ti aiutano, ti danno una mano e quindi dopo viene tutto da sé. Senti, qual è l'importanza in questo gruppo di Davide Nartoni? Beh, Davide Nartoni è fondamentale perché oltre a essere, diciamo, un bravo allenatore e anche una persona dà un'estrema intelligenza. È intuitivo, è sveglio, è simpatico e quindi è proprio l'ideale per il gruppo nostro. Sì, il bello, diciamo, del gruppo è che noi siamo riusciti a riprenderci nella seconda parte perché non c'è stato, non ci sono stati mai degli dici interni. Senti, l'abbandono da parte dell'Iri de Francia-Vittoria aggrava un danno soltanto a voi, no? Parliamoci chiaramente. Però il gruppo adesso come sta vivendo? Cioè, volete una rivalza anche verso il campionato? Certo, quella è normale. Diciamo che la rivalza sarebbe, diciamo, nelle nostre... in generale, l'Ares fa paura. L'Ares è uno squadrone. L'Ares è una squadra solida, una squadra che prende pochi golli, una squadra che... in... 50 minuti effettivi di gioco o 40 minuti tiene palla. E quindi è, diciamo, è un... stile Barcellona, nel senso del calcio a 11. Sì, squadra che ti concede poco e tu in quelle poche occasioni sei costretto a far male. Ti guarda, Federico Ricci spesso come giocatore chissà solo là davanti aspetta il progettivo e il segno. Sì, l'anno scorso, diciamo, anche il livello del campionato permetteva delle pause durante il gioco. Quest'anno, invece, sono costretto a rientrare in fase difensiva, assolutamente, ma lo faccio anche con piacere. Però spesso anche la tattica di rimanere alto ti permette di non far sbilanciare troppo le squadre. Comunque sia, rimane alto un attaccante diciamo veloce su uno contro uno è difficile marcare, ma non solo io, posso parlare anche di Bellanca, posso parlare di tanti altri giocatori. Invece, approcci zona gol, no? L'anno scorso non segnavi, adargai le braccia, no? Stile un po' Ebrahimo, ci sembrava, no? E quest'anno, invece, fai un altro tipo di risultanza. Ci spieghi se hai due risultanze? E che fa che la gente pensa che tu sei un po' uno spocchiosetto? No, no, diciamo, quella dell'esultanza è una cosa, è un riflesso incondizionato, perché comunque, sia lo facevo quella di allargare le braccia, lo facevo sempre quando giocavo a 11, quindi è una cosa che mi sono portato indietro. Dopo questa esultanza è stata, diciamo, una trasformazione, perché prima allargavo le braccia, poi facevo così e dopo sono passato dal... Se avete fatto il bocco, tipo... Sì, sì, no, tipo, ci senti, no? Quali sono gli avversi ti hanno più fatto saltare i nervi? Beh, dal punto di vista del gioco Benedetti era molto difficile da affrontare, lo stesso Proglietti e altri avversari molto ostici sono Tommaso Vichi, che è uno che ti rimane sempre attaccato alle caviglie e un altro molto bravo è Roncetti, del Clinica iPhone. Ma lo stesso Facotti, quando ci giocavo contro era veramente un giocatore su uno contro uno e quasi saltava. Qualche difensore magari c'entrava in maniera un po' più dura del normale. Giovannini! Davide, sì, il giro è la regular season. Che tipo è Giovannini? Giovannini è un tipo, diciamo, una cattiva e agonistica veramente importante e poi è un giocatore veramente sempre pronto ad aiutare il prossimo, sempre pronto a sacrificarsi, sempre... mai una parola fuori posto. Diciamo che il primo anno è stato un plebiscito, il secondo pure comunque ha preso tanti voti. Ti aspettavi di vincere anche il secondo anno il pallone d'oro? No, assolutamente. Io non mi aspettavo neanche di essere tra i finalisti anche perché la stagione non era andata molto bene fino a dicembre per noi e quindi non pensavo assolutamente di arrivare tra i finalisti e di vincere, tanto meno di vincere. È stata una soddisfazione diciamo veramente, veramente importante. Mentre l'anno prima magari non dico che me lo aspettavo però era stato diciamo un crack per il campionato quest'anno è stata proprio una cosa inaspettata e ancora più bella dello scorso dell'anno precedente. Senti, qual è secondo te tolto te quindi il pallone d'oro del Piannini attuale il giocatore che secondo te ha quel qualcosa in più? Uno che poteva diciamo un giocatore che ho visto con qualcosa in più era Proietti che era un giocatore che aveva le cantine aperte. Se ti dovresti chiedere il tuo quintetto ideale cioè il quintetto a cui giocheresti sempre? Vabbè a porta Paolucci Mattia che è un giocatore oltre che essere un portiere fenomenale anche se uno contro uno è insaltabile. Poi come difensore centrale Andrea Fabiani è veramente insaltabile e poi anche in zona colla quest'anno ha fatto benissimo. Potrei dire Matteo Spina perché gioca con me. Un esterno è Poggiani de Milf con cui ho giocato insieme anche l'anno scorso. Tommaso lo storto lo storto a Tommasino. Un altro esterno forte è Tommasino potrebbe fare anche il centrale. Una delle punte che mi piace di più è Lorenzo Carrino che per il calcio a 5 con la sua fisicità anche quest'anno sta facendo un campionato come il nostro che quest'anno molto più fisico anche della passata stagione sta facendo la differenza. Chiudi gli occhi dovete dire l'anno prossimo e con quali prospettive? L'anno prossimo spero di continuare anche con il gruppo dell'Accidenti perché è un gruppo veramente con cui mi sono trovato veramente bene e speriamo di concludere a meglio questa stagione. l'estetate se l'Accidenti non farà la Summer Cup già ho firmato per il Borussia e stavolta c'è una video di gira in buenza avevo già avuto l'esperienza della One Day Cup e stavano vincente del resto in Italia League ha vinto soltanto un trofeo che ha vinto la One Day Cup middle anche l'It middle con il Borussia ci strizzi un occhio comunque al record di gol butti un occhio che ti piace della classifica cannonieri baratteresti la classifica cannonieri con la vittoria dello scudetto di un torneo estivo nel senso comunque di una competizione con la tua sì sì assolutamente scambierei assolutamente la classifica capocannonieri con con la vittoria del campionato e per carità diciamo fare molti gol dà soddisfazioni personali ma non tanto personali perché sì è vero che è una soddisfazione personale però quando fai tanti gol comunque sia facendo tanti gol partita dopo partita anche la squadra ha più possibilità di vincere le partite quindi magari anche la vittoria del campionato potrebbe venire da sé però è naturale che la vittoria del gruppo è sempre più importante di quella personale assolutamente attenzione